Vaccini. No, io penso che, e sono d'accordo, ognuno può fare quello che vuole, però a condizione che non danneggi l'altro, e questo mi sembra abbastanza evidente. Quindi io invece, a parte che io credo nella scienza, credo nel progresso scientifico, tante malattie sono state debellate e a me fa un po' impressione che adesso dice no, torniamo indietro, è una cosa che proprio non riesco a capire, con l'associazione Luca Coscioni, con gli scienziati, anzi, molte malattie cominciano a essere curate, persino il tumore, se è per questo. E invece no, io giuro che questo sentimento antiscientifico, come se stessimo parlando di qualche Frankenstein in qualche magazzino, è una roba che non riesco proprio a concepire.